Sulla carta era un circolo ricreativo gestito da un'associazione non riconosciuta e senza fini di lucro. In realtà il locale, posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, era un centro scommesse illegale. Al suo interno venivano giocate centinaia di scommesse sportive per conto di allibratori maltesi. Il circolo truccato era dotato di computer, tabulati con le quote offerte dai bookmakers stranieri per le partite di calcio di tutto il mondo. Le fiamme gialle cosentine hanno prima effettuato sopralluoghi per acquisire più dati possibili sul gestore della sala scommesse e sui suoi clienti e successivamente hanno pianificato il loro intervento nel momento di maggiore concentrazione di eventi sportivi oggetto di scommesse. Il rappresentante legale dell'associazione è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, reato che prevede la reclusione dai sei mesi ai tre anni e anche per esercizio di giochi d'azzardo, reato che prevede l'arresto fino a un anno e una multa in denaro. Insieme al locale sono stati posti sotto sequestro i computer, le stampanti e le matrici utilizzate per le giocate clandestine. Rossana Muraka per la Cineus 24.